Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 2 giugno. Situazione prima a livello europeo. Possiamo notare questo maestoso enorme campo di alta pressione a nord delle Alpi. Dalla Germania in direzione Scandinavia, isole britanniche, i massimi sono proprio a largo della Scozia e dell'Irlanda. Sul Mediterraneo invece ancora una palude barica con temporali diurni. Sull'Italia quindi inizialmente bel tempo, una bella giornata assolata ma ecco qui con i colori blu la formazione di rovesce temporali durante il pomeriggio su Alpi, prealpi, tutta la dorsale appenninica e l'entroterra di Sardegna e Sicilia. In sintesi la mappa dell'Italia ci conferma una bella giornata ma poi durante il pomeriggio fucina di temporali saranno le Alpi e la dorsale appenninica, qualche temporale anche sulle aree interne delle due isole maggiori. Temperature comunque al centro nord estive prossime ai 30 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.